Ciao ragazzi, bentornati di nuovo nel mio canale, oggi sesto appuntamento, quindi sesto video tutorial con la programmazione in python, andiamo a vedere, ad entrarci un po' di più nell'uso delle stringhe, delle tuple e delle liste, come poter diciamo un tantino manipolare questi tipi di variabili. Allora, apriamo la scena interattiva, un attimino, abbiamo introdotto nel video precedente il concetto di indice, che praticamente va a contare all'interno della stringa, della tupla, della lista, gli elementi di quest'ultimi. Quindi associamo al variabile a un valore stringa italiano. Io ho detto che l'indice parte dal carattere, dal primo carattere della stringa, quindi questo carattere avrà indice 0, questo 1, questo 2, questo 3 e via dicendo. Quindi se io voglio richiamare il primo carattere della stringa, basta che richiamo la variabile e do l'indice. Quindi python mi restituisce la prima lettera i. Se io volessi a questo punto dire a python restituiscimi il secondo carattere, devo mettere l'1, quindi la t, posso anche dire, quindi in questo caso voglio, diciamo in maniera parziale la variabile, non so, i primi due caratteri, devo dire a python, da 0 fino a 2, 2 escluso. La sintassi è questa, mi restituisce i t. Quindi ben capite che se voglio fino alla terza lettera, questa sintassi deve essere da 0 a 4. Questo tipo, diciamo, di espressione la posso anche scrivere così. A, dico a python, due punti fino a 2. E lui mi restituisce i t. Il conteggio all'interno della variabile, quindi anche delle stringhe e delle tuple, quindi questo discorso va bene anche per questi altri tipi di variabili, dicevo l'indice, oltre a partire di qua che è 0, parte anche dalla parte finale della stringa. In effetti l'ultima lettera o di italiano, quindi la o, avrà come indice meno 1. In effetti viene richiamato il meno 1, viene restituito il valore di o. Quindi posso dire a python anche, dammi da meno 1 fino a meno 3. No, scusate, dammi da, no, da meno 3, da meno 3 fino a meno 1. Mi dovrebbe restituire i primi, le ultime, terzo ultimo e penultimo, in effetti mi dà a n, diciamo, della stringa. Terzo ultimo e penultimo, perché meno 3 è meno 1, ed è giusto. Meno 1 è escluso. Sempre quel discorso che l'indice, diciamo, espresso come la seconda, diciamo, parte di questa espressione e viene escluso dalla restituzione, diciamo, della stringa richiamata. Se io invece volessi, diciamo, dire a python, stampami le ultime tre lettere, l'espressione da usare è a, meno 3, due punti. Dico, parti da meno 3, dammi tutto, i due punti indicano la parte finale della stringa. In effetti mi dà, ah no, ok. Invece, se io volessi avere le prime tre lettere, qui, le prime tre lettere della parola italiano, basta che dico a python, a, due punti, da due, quindi inizia dalla prima lettera e restituisci fino alla terza e mi dà ita. Vedete, diciamo, un'espressione abbastanza semplice, nulla di difficile. Se io invece voglio dalla seconda alla quinta, ve l'ho fatta vedere prima l'espressione, quindi comunque da due alla quinta, quinta esclusa, quindi indice due, zero, uno e due mi dà a, quindi due, tre, quattro. La quinta è che, come, diciamo, vi dicevo, non viene praticamente restituita. Dicevo, questo discorso vale anche per le liste e vale anche per le tuple. Quindi, bene, ragazzi, questo è quanto. Nel prossimo video andremo a vedere, a richiamare un concetto molto fondamentale per quanto riguarda le liste. Vi dissi che le liste e le tuple si assomigliano molto. L'unica differenza tra le due è che la lista è una variabile che può essere variata, diciamo variata, nel senso che posso aggiungere o eliminare degli elementi. La tupla, invece, no. Bene, ragazzi, io vi invito a mettere un like al mio video, ad iscrivervi al mio canale e a seguirmi anche su Twitter. Io vi lascio nella pagina informazioni del canale, c'è il link al mio account su Twitter e vi invito a seguirmi. Vi ringrazio, alla prossima!